buongiorno a tutti ragazzi siamo arrivati a massa marittima in toscana ci attendo due giorni splendidi dreamline con la bicicletta da enduro e a darci il benvenuto il buongiorno questa mattina ci sono loro si comincia si va ok ragazzi siamo arrivati nel centro del mondo della mountain bike stiamo preparando per riuscire anima si febic ok guys siamo pronti per partire che il nostro weekend abbia inizio mentre facciamo questo piccolo trasferimento vi racconto che cosa faremo in questi giorni la zona siamo in toscana ridosso di piombino massa marittima la soprano si vede in questo momento hanno creato una serie di sentieri enduristici del bike service di massa marittima che andremo a trovarli poi questa sera faremo oggi un tour pedalato con un po di discese a quanto pare stupende e poi domani shuttle troviamo un'altra zona il garmin dice che dobbiamo muoverci e quindi si sale ciao allora ragazzi il nostro weekend è finito chiara come valuta adesso questo weekend ho fatto solo della salita in realtà mi ricordo di aver fatto della discesa e allora adesso andiamo a prendere la discesa abbiamo finito la prima salita adesso ovviamente inizia la prima discesa giusto ragazzi giusto buttiamoci giu che figata ragazzi sto canyon è una bomba bomba è bellissima guardate che roba continuiamo guardate che roba adesso è un giorno più grande spostato mi ragazzi è come buonga vivendo buonga 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 Ciao Beppo Matte, Fede, Edo e Stefano Edo e Stefano Siamo fermati in questo posto bellissimo a far merenda Merendina Time Adesso Matte non ha fatto il bagno in Croazia Lo fa qua sicuramente Vai Matte, corri Qui ragazzi si sente proprio il sapore della Toscana Che bello, è splendido con questi dialetti Ma guardate che bello questi dialetti qua Sono completamente innamorato di questa terra Splendida, bellissima I cavalli I cipressi La Toscana Chiara Sì, la festa Abbiamo fatto questa discesa La festa che è veramente Anzi ve lo faccio dire da Chiara Super Mamma mia Meravigliosa Super, super, super Terreno spettacolare Adesso siamo in mezzo proprio alla natura Che andiamo a prendere L'ultima discesa di giornata Che è il canyon Siamo sul canyon Mamma ragazzi Ma è fotonica questa roba È veramente allucinata Ok guys Giornata conclusa Anzi riding concluso Il canyon l'abbiamo fatto due volte È stato veramente pazzesco Andiamo a casa Ci facciamo la doccia E poi andiamo dai nostri amici Di bike service Di Massa Marittima A fare l'happy hour Guardate che bello che è Ragazzi è ora di cena Matte ti ho pronto No iolo Buona cena Matte cos'è arrivata La Fiorentina C'è una finita Andiamo Andati in pace Andati in pace Buongiorno a tutti ragazzi Guardate che bel sole Questa mattina Sta arrivando Sto arrivando Sto arrivando Bene Piano piano Oggi ci attende La seconda giornata Dreamline Qui a Massa Marittima Ieri abbiamo fatto Un tour bellissimo Pedalato Oggi invece Facciamo la prima parte Pedalata Buongiorno Quei video che sentite Mettina Oggi invece È mattina pedalata E pomeriggio Shuttle Con i ragazzi Di bike service Di Massa Marittima Non vediamo L'ora che inizia Adesso andiamo a far colazione E poi si parte Per questa giornata Splendida A dopo Sugaro ragazzi È pieno di Alberi da sugaro Bellissimo Ci troviamo In una bellissima Salita Che si chiama Spaghetti Up Hill È un bellissimo Sentiero Ve lo faccio vedere È praticamente Il sentiero Che ti porta Su Ai trail Sul monte Assenti Molto bello Adesso sta arrivando Alberica Due diera Vera Andola qua Molto bello Perché È tutto Sottobosco Diciamo È sempre in ombra Ed è pieno Di queste Piante Da sugaro E quindi Prendiamo Un pezzo Di sugaro E ce lo Portiamo A casa Mi ricordo Di questo Weekend Bellissimo Arriva anche Edo E Chiara Anastro Dietro Siamo arrivati Alla famosa Casetta Di The Trail Brother È bellissimo Ragazzi È stupendo Ci manca L'ultimo Pezzettino Di salita Dove Arriveremo Sul monte Absenti E ci butteremo Giù Di questi Tre Fantastici Non vediamo L'ora Di scendere E percorrere Questi bellissimi Sentimenti Abbiamo trovato Il sasso Del monte Absenti Ma che bello Il mare Massa Marittimo Siamo nel top Di monte Arsenti Ci troviamo All'attacco Nel trail Benedetto Racknell Queen Siamo all'attacco Nel primo sentiero Che faremo oggi In Soglio Faremo La Crankline Un sentiero Studiato E lavorato In collaborazione Con la Crank Brothers Pranzo ragazzi Siamo venuti A mangiare i bici Il fattoriero E lo spavano La boba I bici Che abbondanza Che abbondanza Guarda che piatto È la giusta ricarica Per i trail Di oggi pomeriggio Ok ragazzi Abbiamo finito Di pranzare È arrivato il momento Del Defender Di Crank Brothers Le bici Sono già Cariche Siamo prontissimi E oggi Ci spariamo Almeno 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 Che figo Che figo Arrivati guys Si parte Crankline Crankline E' il primo trail Che ci spariamo Oggi pomeriggio Crankline Facciamo il nino Che è stato studiato Appositamente Per il plus di campione del mondo Nino Schurter Dal papà e dal fratello Bellissimo Ce l'ho fatta A chiudere la zaino Ce l'ho fatta E c'è Matte Che è carico di brutto È carico Prima ha fatto un salto Nella Crankline Che è anche chiaro Perché io guarda Il salto più bello L'ho fatto io Comunque Ok guys Il nostro weekend Qui a Massa Marittima In Toscana È finito Purtroppo Doveva finire Prima o poi Torniamo a casa Ma con la promessa Che ci torneremo presto Perché ci siamo divertiti Veramente Un sacco Troppo 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 Grazie per aver guardato Il mio nuovo video E A presto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.